ciao amici ci stiamo preparando per un natale di abbracci virtuali con noi oggi catalina la nostra vice nonna di italia e non solo lei un'attrice quindi prepareremo delle belle state qui con noi su iris tv a partire dal 24 di dicembre fino al primo di gennaio 2021 qui ti state qui con noi su iris tv catalina e irina per voi per questo natale di abbracci virtuale state qui con noi ciao bacio a tutti natale che ci fa ricordare che abbiamo passato un anno di realizzazioni di esperienze di momenti belli di momenti indimenticabili della nostra vita e per me il natale vuol dire tantissimo riunire la famiglia mangiare insieme ridere scherzare essere tutti insieme a tavola è la cosa più bella dell'assoluto e non solo non solo perché il natale è una cosa stupenda che tutti noi dobbiamo assolutamente viverla con tanta naturalezza con semplicità con gioia con con tanta con tanta disponibilità per tutti non solo per noi stessi ma anche per gli altri per il prossimo perché mai per il prossimo perché a natale dobbiamo essere con tutti i più buoni il mio augurio per voi per tutti che viene dal mio cuore è questo vi auguro il più bello natale del mondo che l'avete mai avuto fino adesso è la cosa più più simbolica ho scelto questo angelo che con tutto il cuore lo mando a voi che vi protegga che vi aiuta che vi sostiene buon natale a tutti voi da parte mia un grande grande bacio e abbraccio grazie mille sei il nostro regalo amore sarà un natale di abbracci virtuali grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille